Nelle forze dell'ordine i cittadini continuano a vedere un baluardo contro la crisi che sta colpendo il nostro paese, che è prima valoriare che economica. E' quanto emerso più volte durante il congresso regionale del sindacato autonomo di polizia SAP, uno dei maggiori livello piemontese che si è svolto a Palazzo Lascaris.